buongiorno dalla rassegna stampa il sole 24 ore mette in apertura il titolo merkel boccia il piano salva euro questo è quello che ha detto la cancelliera tedesca nessun debito comune finché vivo monti paesi virtuosi invece vanno aiutati al suo il suo messaggio bersani pd con monti berlusconi per ora avanti catastrofe casini nel 2013 un esecutivo politico però ecco come giusto che sia il sole si occupa molto di questioni economiche il fondo di pamplona sale al 5 per cento ora il secondo azionista stiamo parlando di unicredit lavoro i primi due sì alla riforma passano le fiducia su articoli articolo 18 e contratti atipici oggi il voto finale il messaggero nazionale se lo trovo eccolo qua ve lo mostro ecco cerchiamo di prendere la pagina intera scudo antispred si tratta berlino apre al piano italiano merkel mayer obon finché vivo vertice a parigi prima del consiglio europeo scommessa federalista per l'unione europea poi gita in montagna sotto il sole muore un bambino di 11 anni è successo in toscana l'appello di monti al parlamento ma berlusconi attacca ancora l'ex premier in determinatezza casini temo il voto anticipato sempre agganciato al titolo iniziale c'è david carretta da brussela l'ultimo pressing sulla germania con la quale peraltro appunto giocheremo anche la partita di calcio la prossima partita di calcio prenderli sarà in campo innanzi a perderossi prenderli dice sarà in campo cerchiamo la nazione nazionale se la trovo eccola qua c'è pirlo la carica di pirlo siamo da finale tifosi tedeschi fra orgoglio e paura quindi ci temono sostanzialmente merkel sfida all'ultimo no io sostanzialmente non tollero che si mettano i bambini in prima di copertina per cui lo tolgo anche se anche se si parla di una persona morta però mi pare giusto rispettare la cancelliera niente euro bond finché vivrò ma apre sul salva spread il piano di onore europea e banca centrale europea dai debiti in comune al superministro del tesoro poi chilometri sotto il sole bimbi stremati uno non ce la fa monti battaglia a oltranza per l'euro casini spariglia il governo politico berlusconi frena i falchi e poi il papa agli sfollati non siete soli è stato in emilia romagna a visitare le zone colpite dal sisma crepe sui muri non nei cuori incoraggia il sommo pontefice lavorano sulla strada falciati due operai ne abbiamo parlato ieri sera ne daremo conto anche nel telegiornale di oggi raccontando un po' questa vicenda davvero che ha dell'assurdo vediamo se ho il corriere nazionale no non c'è quindi possiamo passare al corriere dell'umbria in fin di vita operaio travolto da un'auto incidente in un cantiere ferito anche un altro lavoratore l'automobilista non li ha visti proprio scoperti oltre 182 milioni di euro i vasi questo è il bilancio dell'attività della guardia finanza che ha fatto ha celebrato la sua festa proprio ieri e ve ne abbiamo dato conto nel telegiornale monsignor vincenzo paglia chiamato dal papa saluto commosso ai fedeli auguri da tutta l'umbria davvero una bella promozione per monsignor paglia che dopo 12 lunghi anni lascia terni il liceo classico perderà una classe a perugia il sindaco è pronto a rassegnare le deleghe a spoleto sempre più rumor realizza truffe su ebay popolare sito di acquisti online con il nome del cugino gradisce i carabinieri dopo la lite con la moglie processo asm crollano diversi capi di imputazione poi speed check e più controlli per un ape chiese più sicura a città di castello la strada andiamo avanti con le opere dell'accademia adesso parlano cultura vicenda basella al capolinea chianina e tartufo estivo è quel festival del weekend del calcio è cominciato il derby fraternale perugia che si contendono di deo la subasio si prende borrelli moretti all'angelana cagiola san benanzo cattivo con me tante notizie in due righe torna la due femminile nel capoluogo rabona tratta il titolo del mercato san severino nazione locale falciati nel cantiere vedete la foto vi assatevalle auto travolge due operai una grave picca la moglie assali carabinieri raptus di un uomo fossato di vico lei voleva lasciarlo lui finisce in manette paglia l'umbria sempre nel cuore la finanza trova il tesoro poi bonus benzina chi intasca in regione i nostri soldi inchiesta ma neanche più di tanto perché è tutto pubblico da parte della nazione scoppia un tubo nel caos via garibaldi a foligno e poi a pecchiese ecco l'auto velox era proprio ora troppi morti incidenti spill check lungo la strada alimento sicuro diventa un talk show all'istituto di zoo profilassi dell'umbria e delle marche ancora avanti con i giornali il messaggero locale apre con come vediamo eccolo qui visite col trucco 200 casi al setaccio migliaia di prestazioni dopo i dei ospital spuntano le gastroscopie l'indagine del nas negli ospedali analisi senza la ricetta del medico meglio la richiesta del medico trovate le prove dell'aiuto ai parenti caccia all'autografo di bari si chi nob spero di aver pronunciato bene poi concorso da preside e di foligno la prima classificata e remo gasperini che parla da perugia invece qui il saluto di paia alla sua diocesi resterò sempre legato a voi andrà in vaticano evasori battuti nove volte su dieci la guardia di finanza dice di aver scovato ed è giusto 182 milioni di euro mai dichiarati è un anno di lavoro delle fiamme gialle più difficile la vita dei furbi antifisco il caldo allarme ozono il temibile effetto serra a ponte san giovanni e al parco cortonese ne parla selenio canestrelli in basso scuola tanti bocciati alle professionali licei e tecnici invece promuovono di più eccoci qua prepariamoci perché sarà una domenica a 40 gradi ce lo annuncia nell'angolo del meteo gilberto scalabrini poi in basso al cor fuori orario locale chiuso per un mese e a perugia e beh insomma è necessario avere un po la mano pesante il giornale dell'umbria sanità e trasporti le regioni chiedono il conto finanza da record scovati 182 milioni in nero in cinque mesi poi vabbè oggi c'è l'inserto lavoro comuni università decise 29 assunzioni crisi idrica multe a chi spreca di vieti di attingimento tutti i provvedimenti perugia dal comune 50 milioni invece per migliorare la città andiamo a vedere se ci sono altri giornali di cui posso darvi conto mi pare di aver avervi offerto tutto e forse potremmo dare rapidamente se ho ancora qualche secondo notizie brevi riferite sto passando per i browser naturalmente riferite alla operazione della polizia di perugia la questura che oggi terrà una conferenza stampa alle 11 dove ci proporrà resoconto dell'arresto di tre albanesi sembrano possano essere lo vedete qui su umbria giornale possano essere gli autori dell'efferato omicidio di sergio coscia della mamma la sua anziana mamma maria raffaele a cenerente ne parla evidentemente anche umbria 24 quindi l'appuntamento lo ripetiamo e alle 11 in conferenza stampa presso la questura di perugia e poi vi daremo conto di tutto quanto nel corso del telegiornale delle 13 e 30 buona giornata